Buongiorno a tutti! Oggi siamo nel cuore di Bari, più precisamente nella zona Carrassi e vi proponiamo un ampio appartamento di quattro vani che offre il massimo comfort e spazio per la vostra famiglia. L'appartamento si sviluppa su 134 metri quadri. Entrando ci accoglie un ampio ingresso. A sinistra troviamo un salone dotato di una grande finestra, offrendo luminosità all'ambiente. Successivamente troviamo tre camere, di cui una balconata che faccia verso l'esterno. Una da poter adibire a studio ed infine la camera matrimoniale. Tornando nel disimpegno, sulla destra troviamo la cucina abitabile, perfetta per garantire pranzi e cena in compagnia. Da quest'ultima possiamo accedere alla veranda interna di 12 metri quadri con lavanderia, un bagno padronale e due ripostigli, garantendo praticità e ordine. L'appartamento è dotato di sistema di riscaldamento autonomo e ascensore, per un accesso comodo a tutti i piani. La zona è ben collegata ai mezzi di trasporto pubblici e ci offre una vasta gamma di servizi nelle vicinanze. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vivere in uno spazio ampio e confortevole a Bari, nella zona di Carrassi. Contattateci oggi stesso per organizzare una visita e scoprire tutto ciò che questo appartamento ha da offrirci. Ciao, alla prossima!